Torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietralefusi, Avellino, 0825 19 31 778. Oltre il ricordo, questo è il tema scelto dalla CGL che per l'anniversario del sisma del 1980 ha organizzato una discussione al circolo della stampa. Rischio sismico e sicurezza dell'edilizia scolastica a 37 anni dal terremoto, su questa traccia si è sviluppato il dibattito che inevitabilmente si è incentrato sulla questione scuole in città. Come troppo spesso accade in Irpinia ma anche in Italia si continua a inseguire l'emergenza, poi sentirsi dire anche dalla protezione civile che non è un'emergenza resta assolutamente stranito quando ci sono migliaia di ragazzi che corrono il rischio di perdere un anno della loro vita, quindi anche aspettative future che già sono complicate in questa Italia in profonda disuguaglianza ci interroga e chiediamo con forza una mappatura e delle soluzioni, cose che ad oggi mancano eppure l'abbiamo chiesto anche nel piano del lavoro come CGL, un intervento serio sull'edilizia scolastica e residenziale.